Buongiorno sono, io sono francese, noi siamo le championi del mondo, noi siamo le migliori. Senti un po' le migliori osti, ma non siete migliori voi. Arte e cultura, noi abbiamo nel Louvre, il museo più famoso al mondo, per non parlare di arte culinaria. Ora, arte culinaria, sto carmino che non avete mai ancora detto. Arte culinaria intendo cucina e noi non abbiamo bisogno del video. No, del loro cano petali di rosa. E poi oh, Louvre, Louvre, e intanto diamo quanti italiani. So a cosa ti riferisci, storia trop vieux, storia molto vecchia ormai Mona Lisa se francese e francese. Madonna, appena l'ha detto, mi è venuta la ciccia di galli. Poi che c'è? L'usurabione e il suo padre. Poi noi siamo in Parì, le città più belle del mondo, nessuno ha una capitale bella come la nostra. Oh, ma che star di io? Ma vedi, dannate. Noi siamo le baguette, famose in tutto il mondo. Noi, non dimmi la pizza, non mi fai, no? Ma la mattina fanno un giro di casa, non fanno i gatti, buttiamo pure le baguette, no? Abbiamo soprattutto pieti raffinatissimi come l'escargot. Che poi oh, hanno le chiocciole. La famosissima omelette francese. Oh, che poi sarebbe una frittata di patate normalissima. Dì, l'altro giorno sei stata al ristorante, avevo una fame sganasciavo, leggo sul menù omelette. Voglio provare l'omelette. La ordino, ti arriva al cameriere dopo un'ora, io mi aspettavo insa cosa, ti arriva un'vesta frittata di patate marcia e neanche all'ospedale. Loro fregono tutti perché il detto un francese sembra chic con una carta. Mi digli un po' come si dice la maiale di Thomas in francese. Le miele de ta mère. No, ho chiamato presa e sta lì, sembra un complimento. Invece sentite, ma è potente questo video. Il budello di Thomas sull'Aurelia. Voi parlate, parlate, intanto noi siamo le champion du monde. Per due volte, e noi? Per quattro, quattro, necci, onci. La morte non ci siamo, vincano. Anche se ci arrabbate e dicevamo comunque il cane c'era troppo forte per voi. O vi tira uno storcione. Te lo vado a fare anche grosso e tu lo avresti anche uno scendi molto bene, grosso. E ci si becca tra quattro anni e vi si fa un culo o un paiolo. A presto.